Gianluca Orazzi è nato a Forlì e lavora nel settore commerciale della Zanichelli da 5 anni. I suoi campi d'azione riguardano principalmente il comparto della varia e dei dizionari, di cui segue la distribuzione presso le catene librarie più importanti del paese, nonché nei principali canali di vendita online. La licenza IP permette un accesso diretto ai nostri 22 dizionari online senza bisogno di digitare username e password. La licenza IP è pensata per aziende o pubbliche istituzioni principalmente. Con questa licenza, qualsiasi scuola o ente o pubblica istituzione che ha un network aziendale, può permettersi di accedervi direttamente senza bisogno di digitare username e password. Spendiamo qualche parola sull'indirizzo IP. Possiamo considerare gli indirizzi IP come coordinate di un ufficio, di un ente sulla mappa, quindi come longitudine e latitudine che riconoscono appunto l'azienda o l'ufficio in questione. Una volta sottoscritta la multilicenza, succede appunto che si accendono immediatamente e quindi ogni PC è in grado di accedere appunto ai dizionari senza bisogno, quindi comodamente, senza bisogno di digitare username e password. La licenza IP dei dizionari online Zanichelli è pensata principalmente, ma non solo, per aziende o pubbliche istituzioni. Possiamo fare qualche esempio di chi ha sottoscritto la multilicenza, ad esempio il traduttore del Consiglio d'Europa, il Palo Bibliotecario della Camera del Senato, la Scuola Superiore di Lingue Moderne per l'Interprete Traduttore di Forlì, un importante studio legale di Milano, Freshville, Brookhouse, Deringer, LLD e addirittura anche la provincia di Trento. Perché tutte queste aziende, tutti questi enti hanno sottoscritto con noi la licenza? Ma perché è comoda ed ospitale. Comoda perché permette l'accesso diretto ai dizionari online senza bisogno di inserire username e password, quindi senza perdizia di tempo, diciamo. È ospitale perché chi viene a farci visita in azienda e si connette appunto alla nostra rete aziendale può avere accesso diretto alla consultazione appunto dei dizionari, esattamente come gli altri computer del network. Grazie a tutti.